Benvenuti in questo nuovo video di opening coreane, nello specifico abbiamo Pharaonic Guardian allora diciamo che è un pack, un'espansione meno propensa per Edison tranne forse per qualche cartina ora non so il contenuto nello specifico però ci sta per l'appunto la Last Shot e la Metamorfosi che diciamo saranno i due obiettivi principali del box prima di continuare se vi piacciono contenuti retroformat come Edison, Tenguplant, GOT per l'appunto e ho anche unboxing di vari prodotti anche abbastanza vecchiotti che siano TCG o CG iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, è gratis e soprattutto supporta me e il mio lavoro allora io direi di procedere subito con l'apertura del box come al solito vi ricordo che essendo box coreano, ma se che fighe le gustine ragazzi, molto vintage comunque essendo box coreano le carte all'interno del box sono 40 e all'interno di ogni bustina sono presenti 5 carte altra piccola premessa come al solito sarò sempre ridondante intanto vado ad aprire le bustine, ok questa è famosa, vado ad aprire le bustine io porto spesso diciamo questo tipo di aperture sul canale fornendovi diciamo delle sorte di guide anche alle espansioni su quali acquistare o meno ecco questa è un'ottima carta per l'appunto per il formato cotta, frattura Rai Geekly anche questa mi pare si giocasse, non mi ricordo, non sono sicuro comunque, questo diciamo obiettivamente è un pack, un'espansione dedicata principalmente a quel formato lì e speriamo di trovare la metamorfosi eccola l'ho nominata, ok ne abbiamo trovata una è anche una super, attenzione ok, abbiamo trovato la nostra prima metamorfosi allora, perché questa cosa poi ho voluto comprare questa? allora, dice, di base io non sono un giocatore di Godfrey proprio nel senso che, mi spiego meglio, metto le mani avanti mi piacerebbe iniziare però diciamo, di base sono una persona per quanto abbia iniziato a fare video su YouTube sono abbastanza timido, mamma mia il Kabatzaos, che figo che sei comunque, stavo dicendo, scusate sono una persona abbastanza timida quindi faccio anche un po' di fatica a interagire diciamo con i miei già serrati in fumetteria poi il Godfrey non è un formato che onestamente io conosco bene ma questo non vuol dire che non possa iniziare a giocarci anzi, teoricamente io Matsugot ce l'ho, ce l'ho già pronto e montato e che mi piacevano un po' le vibes che dà il formato però, però, oh, abbiamo la Ultra, signori e guarda qui, la Sphinx ok che dovrebbe essere anche la cover card cioè, del box, vabbè ok diciamo che la metamorfosi l'abbiamo trovata che poi la mettiamo off e si viene venduta sempre a parecchio questa è una carta interessante per il GK, mi sa, anche in Edison è decisamente underrated che stavo dicendo, comunque sì, sono abbastanza timido quindi faccio fatica a inserirmi in altri gruppi poi vivo lontano dai, dai, diciamo, le persone con cui ho legami più strette anche la mia compricola con cui faccio i tornellini però, per l'appunto oh, reasoning, figa oh, la Wangu la Wangu, signori Wangu, carta fortissima l'ho detto qui sia per Edison che per, 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 per Gott è una carta che poi io ho sempre giocato personalmente nel, nel GB e, a proposito del GB GB se vi interessa ho portato qui sul canale appunto una lista Edison del mio GB Control che, diciamo, sotto una carta una tech che, secondo me, è super sottovolatissima in Edison abbiamo la Dash Shot eccola qui cioè, praticamente è vero che non costa quanto una TCG c'è in italiano, inglese, europea, insomma in lingua europea, insomma però viene pur sempre venduta a 5-6 euro la Dash Shot e, diciamo, il box bene o male se ne troviamo se troviamo già un'altra di queste bene o male non dico che arriviamo alla cifra del box ma quasi diciamo abbiamo appartato oddio ma le Super le trovo così di botto faccio vedere anche questa questo dei custodi di tombe ok diciamo sta ci siamo con con abbiamo trovato la Dash e la metamorpo sì sono molto 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 contento spero di trovare almeno un'altra metamorpo se ne sto a chiamare un Dash oh lo devo di più spesso se ne ritroviamo un'altra metamorpo sì ok siamo a 2 che poi vi sto dicendo anche perché un altro motivo per cui ho voluto comprare questa espansione io questa espansione diciamo le carte vecchie le espansioni vecchie ne ho aperte pochissime pochissime tranne qualche volta che le trovavo a caso dal appunto in edicola un altro guago in edicola e io avevo mi ricordo di aver comprato soltanto forse 1 o 2 bustine di questo qua di Pharaonic Guardian e mi ricordavo per l'appunto di avere una metamorfosi e infatti quando sono andato in garage quando sono andato a riprendere le carte che ho deciso anche di ricominciare l'avevo anche l'avevo anche vista detto ah questa è proibita ma la dovrei tenere da parte poi vabbè non mi ricordo dove l'ho messa probabilmente insieme alle altre carte e poi effettivamente dico cacchio io il goto non lo conoscevo bene come formato non sapevo ci fosse la metamorfosi disponibile all'interno di di questo ho fatto porca miseria io ce l'ho sono stato un sacco a cercarle ragazzi io vi giuro non l'ho più trovata avete presente la classica cosa dove tipo vedi una cosa ce l'hai lì davanti per tipo 800.000 anni è sempre lì ma al momento del bisogno scompare non la trovate più vi dannate e io a proposito di questo l'ultimo oggetto che cercavo a parte la metamorfosi era un polsino che avevo un polsino per la chitarra che mi piaceva un sacco quelli là lunghi che sono molto comodi per suonare la chitarra a me piacciono anche esteticamente così si suono anche la chitarra anzi suonavo ho dovuto diciamo che ho smesso sia per impegno un po' per altri problemi ho sto coso che sembrava sempre una merda e niente se siete mutilisti fatemelo sapere qui sotto che strumento magari suonate sono curioso io per l'appunto suono una chitarra ho tuttora una jackson che sono le mie chitarre preferite simile Randy Rhoads è su un modello della Randy Rhoads ma non è la Randy Rhoads 1 non è quella però è una Randy Rhoads ok oh e siamo già abbiamo diciamo regolato il box eppure questo me lo tengo da parte dello stesso perché eppure questo raga raga abbiamo svoltato questo box con sto box abbiamo svoltato abbiamo trovato buone carte veramente sono super soddisfatto finora io non ripeto non ho idea delle ultra delle altre carte che ci stanno quindi è per quello che magari sono super sorpreso di vedere determinate carte trovate all'interno del box cioè quantomeno non me le ricordo affatto pur avendo lo saputo in passato vabbè 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 ci abbiamo ancora un altro box da aprire per il prossimo episodio quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo volete subito o no anche se ok ma che è sto non mi ricordo il nome però mi è familiare che ce ne vuole c'è la carta più costosa è questa scherzo comunque ripeto a me converrebbe sempre fare un upload a settimana però per l'appunto sia per mancanza di tempo per l'editing ma anche per l'algoritmo di youtube sono sincero ragazzi ovvio che è vero che carico i video però se riescono a ottenere più visualizzazioni e a trasformare diciamo questo hobby in un parziale potenziale lavoro part time tartaruga la teniamo lo stesso part time a me farebbe solo che piacere anzi anzi è per questo che vi chiedo sempre di lasciare sempre di piacere il commento perché più ne mettete non guardate magari il video e fate diciamo non voglio di finta di niente il libro della luna non voglio di finta di niente però molte volte sapete com'è che si tende a guardare il video in autopilot capita anche a me attenzione capita anche a me di guardare il video in autopilot però non lascia nessun film perché non mi piace nemmeno non mi piace vabbè vabbè signori eppure questo ma che è sto pack godbox abbiamo trovato ma che cacchio di roba il ring of destruction secret porca troia cioè porca miseria comunque più diciamo supportate il canale più diciamo abbiamo la possibilità anche di fare più opening perché ragazzi io sono contento di fare più opening ripeto a voi effettivamente costa soltanto pochi secondi del vostro tempo e poi sono felice anche di interagire con voi tanto che appunto ho creato un server discord dedicato dedicato sia giocatori di Edison di di Tengu Plant qualora se ce ne dovessero essere di più in futuro ma anche di goto ho creato anche la sezione goto ripeto per quanto io non sia un giocatore attivo mettiamola così però vorrei tanto cominciare a a giocarci spero diciamo di convincere un po' parte della complica ok questa come cacchio si chiamava la conosco eh raga scusate non ricordo mai i nomi delle carte a differenza degli altri io ho una memoria abbastanza schifosa su certe cose mi ricordo determinate cose bene ma questo ok quindi ci manca un'altra ultra credo no ultra c'è abbiamo trovato le due e io non me ne ero accorta che avessimo trovato questa beh beh che dire che dire diciamo che di Das c'ho 8 ore ne ho 4 ne ho 4 e finalmente posso mettere un po' nei mazzi senza doverla cambiare in continuazione da un mazzo all'altro una reckless creed ce la mettiamo lo stesso da parte metto da parte solo quelle che mi ricordo ragazzi perché magari ci potrebbe essere anche tipo quegli scarafaggini di prima pure quelli sono mi pare utili in got ma ripeto non lo so devo vedermi poi bene lo standardo un altro libro della runa non male comunque è bella grossa sta espansione veramente enorme veramente enorme per appunto got soprattutto la secret mi pare non è nemmeno sicura all'interno dei box mamma mia un'altra metamorfosi queste pure me le dovevo mettere da parte mannaggia ma che è oh 4 metamorfosi cioè è vero è una comunazza lo so lo so lo so che è una comunazza e lo so che non vale quanto quella tcg lo so lo so però per me è assurdo perché diciamo bene o male gran parte dei almeno negozi conosco io te le fanno usare le carte ocg e quindi per me è good insomma penso se anche i ragazzi di shapo tech gaming durante i loro eventi le permettono di utilizzarle lo so ragazzi però caso che a me fa comune di base però caso che qualcuno lo sappia me lo faccia sapere perché nei tornei ufficiali konami no questo lo so e ok un'altra recless scritta allora ragazzi cioè come buttino non è andato male non è andato bene è andato più che bene cioè abbiamo 4 dash 4 metamorfosi il spirit riperfusione abbiamo tanta tanta roba tanta tanta roba quindi se volete più contenuti di questo tipo lasciate sempre il mi piace che mi aiuta come feedback il commento magari condividete un po' il video con i vostri amici per vedere un po' il numero di metamorfosi che può uscire ma anche da un box lo scopriremo magari anche con l'altro quando ci sarà il prossimo episodio quindi commentate caso che voleste questo episodio ho fatto un sacco di rumore quindi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video see you next time ciao